Siamo in compagnia di Elena che si è appena tipizzata, per lei una domanda forse la più banale ma che a molti interessa, è stato facile ed è stato doloroso? No, semplicissimo e doloroso, come un esame del sangue, è normalissimo. Quindi sfatiamo questo pregiudizio che in molti hanno paura, che cosa diresti tu a tutti quelli che dicono ma non so se tipizzarmi perché ho paura? È emozionante perché è emozionante però non c'è nulla di che aver paura anzi. Quindi tu senti oggi di aver fatto la differenza? Spero di sì, di aver fatto il mio. Allora diciamo... Per tutti i bambini soprattutto che ho cuore, che sono malati. Allora diciamo tutte e due insieme Match It Now al mio 3 1, 2, 3, Match It Now!